Con il quarto ed ultimo concorrente in gara, ha 26 anni, è di sezze, è un pittore ma anche musicista e il suo cavallo di battaglia però in questo caso è il clarinetto, Silvio Frainetti Buon pomeriggio a tutti Silvio anche per te è stato un grande successo, quella puntata in cui sei stato protagonista Cosa ti hanno detto quando sei tornato a casa? A parte per me è un onore tornare qui, una bella esperienza poi da ricordare, memorabile per me Siamo contenti anche noi, allora hai 60 secondi a disposizione, 3, 2, 1, in bocca al lupo Siamo contenti anche noi, allora hai 60 secondi a disposizione, 3, 2, 1, in bocca al lupo Siamo contenti anche noi, allora hai 60 secondi a disposizione, 3, 2, 1, in bocca al lupo